Musica Incontro Antonino Sorace, il consigliere comunale che abbiamo conosciuto per diverse esternazioni anche colorite, importanti, che hanno avuto comunque una certa popolarità e hanno sviluppato tanto dibattito e tanta discussione. Adesso non arriva un'altra perla di Sorace e lei avrà la possibilità di spiegarcela meglio, ovvero che parlando di illuminazione pubblica ha indicato dei luoghi dove ci sono difficoltà proprio in riferimento all'illuminazione pubblica, ha parlato del cavalcavia delle chiazzette e ha detto che lì i ragazzi neri non si riescono a vedere. Ci sono riferimenti razziali in questo? Assolutamente no, ma non parlavo di nero, parlavo solo di ragazzi di colore, non mi sembra assolutamente offenzione con queste persone i quali io rispetto tantissimo anche perché ci sono persone bianche che sono cattive come ci sono quelli neri, per cui voglio dire il mio intervento non era rivolto al nero come nero, come razziale ma al ragazzo di colore che contestando il buio che l'amministrazione fa un carnevale e poi di fatto non mette nelle condizioni di garantire alle persone di poter attraversare il cavalcavia delle chiazzette mi sembra una cosa assurda. Ma voglio dire anche se vanno dei ragazzi bianchi, magari con un cappuccio nero non è che si vedono di più, c'è un riferimento razziale in questo? Naturalmente non è un riferimento razziale, non sono assolutamente razzista, possono essere le mie idee politiche ma non sono una persona razzista assolutamente no era solo una battuta come detto l'epoca, anzi una perla di sorace come tante altre che poi vengono forviate e quindi il mio senso era quello di dire all'amministrazione di intervenire nel più bene tempo possibile in quanto in questi giorni arriveranno tantissime persone per cui quella zona va illuminata indipendentemente dal carnevale anche per il proseguo dei giorni del nostro anno. Quindi vogliamo chiudere dicendo che il suo riferimento ai ragazzi neri è stato un momento un po' sbagliato in termini di comunicazione ma che lei non aveva intenzione razzista perché questo è un passaggio che a noi interessa, lei era in una sala istituzionale no? Allora ribadisco che non parlavo di neri, non sono una persona razzista, il mio intervento era volto solo a sensibilizzare l'amministrazione affinché possa illuminare quella benedetta zona che da tanto tempo ha il buio. E quello le chiedo di illuminare il cavalcavia delle chiazzette perché è totalmente al buio, una donna da sola, dei bambini non possono attraversarla diventa un posto pericoloso soprattutto nelle ore dove c'è buio e quindi ahimè i ragazzi di colore non si vedono non è un'offesa alle persone di colore ma al buio i ragazzi di colore non si vedono io non vorrei che Cireale anziché parlare del carnevale si debba parlare di altro come accade ultimamente nella nostra Italia.